Ciao a tutti, sono io, sono io, sono con Giulio, benissimo, siamo sul mio canale, vi rispondi, Giulio, vi rispondi, bene, vi rispondi, commentate, scrivete delle domande e commentate, guarda l'obiettivo di Giulio, subito, mettete in piace, perché sennò vi spacco la zia, avete messo in piace, bene, allora, votate queste due facce, qual è la più divertente? questa, oh questa, bene, cominciamo, leggiamo la prima domanda, leggiamo la prima domanda, sul pc, sul pc, non si vede, non si vede, qui sto, ti voglio, allora, ah io ho, è caduta, guarda, 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 Il provino per le tartaruga ninja Solo che non li hanno presi Si sono suicidati E poi Bruce Lee Loro sono tutti i giamelli di Bruce Lee Bruce Lee Giustamente Prossima domanda Questa domanda ce l'hanno fatta i Pampers Veramente li ringraziamo Tantissimo Noi siamo iscritti Loro ci fa sempre delle domande Questi Youtubers E noi ci accettiamo Perfetto allora Prossima domanda Avete mai Vi siete mai fatti free and zonare durante una passeggiata Intorno a dicembre In due di sera Con un pacchetto di patatine in mano E' quello che è successo stasera E' quello che è successo prima Cazzo ma questi qua Oh sono degli stalker Sono stato free and zonato Veramente ci hanno stalkerato Will ma ti rendi conto? Ci hanno stalkerato Ci seguimo Prossima domanda Prossima domanda Prossima domanda Dai prossima Del capo bastone official channel Uh capo bastone Questa ce la fa Allora la leggiamo nella sua lingua Allora Perchè il cazzo di notc Non ha fatto uscire La nuova versione Di minecraft E playstation 4 edition Ma l'hanno appena fatto uscire Coglione di merda cazzo troia Ok il video per oggi è finito qua Da toccare un bonus Ehi Ciao a tutti Ciao a tutti